questa signora che rientra a casa costeggiando il muro dell'antico palazzetto patrizio è un'attrice romana anna magnani che potrebbe essere anche un po il simbolo della città che so io una roma vista come lupa e vestale aristocratica e stracciona tetra buffonesca potrei continuare fino a domattina la federi va dormiva